bentornati a storia di calcio e quiz io sono salva life prima di cominciare il video vi ricordo sempre ragazzi di iscrivervi al canale se non siete già iscritti attivate la campanella e lasciate laica video vedo che tanti ancora non si iscrivono guardano i miei video però non sono iscritti sono veramente tantissimi ragazzi in questo modo vi perdete sempre l'uscita dei miei video tanti dicono perché non riesco a vedere il video lo vedo troppo tardi non arriva la notifica non ti arriva la notifica innanzitutto già perché non sei iscritto e poi devi attivare la campanella in modo che così ti arriva subito la notifica sul telefonino o sul computer insomma ecco dove preferite guardare i video su youtube allora oggi ci soffermiamo sulla conferenza stampa di pioli ovviamente prima della partita di ventos milan quella dove un pochettino ha rosicato sul fatto insomma dell'inter commentando questa vittoria di questo scudetto ma detta di molti non sportivamente pioli è stato almeno al sottoscritto sempre abbastanza difeso per quello che ha svolto quest'anno nel miran non lo stimo come allenatore non mi piace per i suoi però ovviamente guardo quello che ha fatto in questi anni al miran quest'anno soprattutto negli anni passati non ovviamente non posso dire che ha lavorato male anzi con materiale che ha avuto ha fatto ha molto ha vinto uno scudetto ha detto anche di molti regalato all'inter forse è vero quella stagione fatto arachidi da sola però comunque c'è questo scudetto però alla fine finisce lì poi c'è una sepia di champions league tante rincorse alla coppa italia finite male l'europa league quest'anno finita male coppa italia finita male quindi ne diciamo che quando è stato chiamato in causa in bene portare del minan ha toppato sempre però comunque la champions league il suo posticino in champions lo ha raggiunto quest'anno molto probabilmente chiuderà il secondo posto se vediamo un attimino che comunque sembra che io e the same plan sono abbastanza stanno rallentando non sono più al massimo proprio lo splendore tutto il miran che moralmente non sembra più quello di qualche mese fa pioli se n'è uscito dicendo che l'inter è la squadra più forte da ben quattro anni che però ha vinto secondo lui poco due scudetti e basta ha ruminato solo gli scudetti ha tralasciato le vittorie della coppa italia della supercoppa lo so che ha detti di molti queste coppie non pagano niente però se le vincono gli altri se festeggia per giorni e giorni però se la vince un altro sono i classici porta ombrelli della bellezza di casa però ci sta insomma coppa italia e supercoppa l'inter le ha vinte oltre a due scudetti quindi non mi sembra tutto sto poco certo poi possiamo metterci anche una fine diciamo sì che ovviamente non ha vinto per arrivare in finale di champions league sappiamo tutti i soldi che porta nelle casse della società quindi c'è qualcosa c'è ragazzi c'è l'inter ovviamente si è forte da quattro anni è verissimo tutto detto uno scudetto l'ha praticamente secondo me anche secondo me proprio se l'è mangiato quindi potevano essere tre scudetti in quattro anni però ovviamente dire in questa maniera sembra proprio quello che pioli dice è che l'ha detto da tifoso abbastanza inferocito e lì c'è stata questa caduta di stile non ha a mio avviso non non giusta non dai meriti a un tecnico come simone inzaghi il lavoro svolto quello che ha fatto e comunque l'inter ha dimostrato di saper lavorare bene e di portare a casa successi il milano ha vinto quello scudetto poi ho detto non ha vinto né una coppa italia non ha vinto più niente capisco la frustrazione capisco il momento capisco che sicuramente per lui saranno queste sono le ultime partite e irode un po il fatto che verrà mandato via nonostante tutto quello che ha fatto perdere poi un altresnesimo derby ne ha persi uno scatafascio sei derby credo se non mi sbaglio se non fatemi sapere i commenti sono tantissimi e soprattutto l'ultimo perso ha regalato poi lo scudetto alla milan all'inter quindi potete immaginare il suo stato d'animo però onestamente capisco e non capisco un tecnico comunque lui non è alle prime armi poteva tranquillamente dire sì l'inter è stata la squadra più forte per quattro anni è una squadra più forte da quattro anni noi con i nostri mezzi con quello che abbiamo avuto abbiamo fatto l'impossibile cercare di restare dietro ci siamo impegnati al massimo però ovviamente poi i valori tecnici sono di fuori lungo il tempo soprattutto nei scontri diretti e poteva dire sì faccio i complimenti all'inter comunque ha vinto chi vince sempre il più forte e noi ci rifaremo l'anno prossimo anche se lui non c'era non ci sarà sulla macchina poteva dire anche in questa maniera insomma ecco cercare un attimino di non esagerare con queste interviste che ovviamente associare l'inter non è che apprezzino molto o anche i tifosi del min dell'inter anche del milan comunque non è sommato in bobbasiti da questa conferenza stampa di pioli pioli che poi ieri si è affossato un ennesimo partita scialba del 1000 che poi quello che lui dice no cioè se c'è poi tutto questo questa voglia di rivalza no li fa vedere in campo il milano di ieri ragazzi c'è il milano di ieri ieri già sta sta milano sabbia d'oro in ciabatte sulla spiaggia quello è il milano di ieri dove sta questa grinta dove sta questa voglia di rivalza dove sta questa voglia di blindare questo secondo posto perché comunque anche oggi il bologna ragazzi se vince gioca contro l'udinese comunque una partita di molto difficile però anche la juventus ieri sarei presa in oscialanzo perché anche loro non hanno fatto niente di che però il bologna sta sta arrivando mancano ancora cinque quattro partite insomma ne mancano ancora diversi punti in palio sono tanti rallentare così con il pen a mano tirato lo vedo molto molto diciamo ottimo e giusto anche per la società poi ieri ha parlato anche con l'anno nel nel post partita chiedendo rispetto per il lavoro svolto sicuramente c'è un po' anche un po' di ragione perché tanti giornali hanno abbastanza preso di mira un po' tutto sembra che è tutto da buttare invece no comunque le basi vera del milano di una squadra ci sono ovviamente quest'anno andrà puntellata con dei calciatori ideali e soprattutto giusti per il tecnico che arriverà ovviamente il milano dovrà assolutamente trovare una punta perché giro ecco andrà in america anche quest'anno a mio avviso continuare ancora un altro campionato con giro è stato un azzardo infatti è stato un fallimento totale giro con l'età che ha non poteva più reggere l'attacco del milano con un leao che va a tre cilindri che segna non segna se prende delle pause lunghissime soprattutto l'inverno con un gabbina in campo e ne ha sofferto abbastanza quindi credo che il milano dovrà assolutamente trovare uno o barra due attaccanti perché non penso che a manco di ovvi ci resterà un'altra stagione al milano qualcosina centrocampo sarà fa qualcuno che forse inventi qualcosina qualcuno che illumini un po' il gioco e i difensori dietro serviranno l'angro centrale perché quando si fa male qualcuno c'è l'abbisso dietro se fanno male i tumori e caludo non sai più chi schierare poi anche questi due bisogna vedere perché quest'anno abbiamo visti veramente poco tra gli infortuni se e poi quando ritorneranno in campo saranno ancora loro o ci sarà qualcosina insomma anche lì da intervenire perché comunque questi infortuni non è che sono una belle edizioni per i calciatori spesso appunto non riescono più a recuperare o continuano a avere tanti stop per la this morning quest'anno alla roma torna poi si fa male torna poi si fa male perciò ci sta insomma da ragionare un attimino comunque quello che dice forlano è giusto il milano ha fatto ha fatto ha investito quest'anno e si anche loro speravano di vincere qualcosa quest'anno invece a mio avviso secondo me il milano ha buttato la chance dell'europa league perché era assolutamente a portata di mano l'ha buttata via una partita bruttissima e lì a mio avviso pioli poteva forse giocarsi la rica la conferma portando a casa l'europa league però la partita è stata veramente imbalazzante ragazzi una partita brutta e mezzo del milano della stagione a roma è andata e ritorno e lì si è vista la fine insomma di un ciclo di questa società e di questo allenatore quindi ragazzi in parole povere pioli rosica e l'inter festeggia oggi soprattutto poi dopo la partita che ci sarà tra inter e torino a mezzogiorno e mezzo si parla tirà con un mega woolman in tutte le vie di milano a festeggiare e con queste ci sono già magliette celebrative di questo scuoletto dell'inter e ovviamente tutto questo non fa bene i riposi del milano che speravano in qualcos'altro in questa stagione ragazzi in realtà così c'è sta gente che non vince uno scuoletto da 400 anni che vedevo di che vedevo di che dobbiamo dire almeno nirando qualcuno ne portate a casa perché coppietta la portate a casa la portiamo a casa una mazza bene ragazzi questo video finisce qui vi ringrazio di essere arrivati fino alla fine del video insieme a me lasciate un like al video commentate qui sotto fatemi sapere se anche voi rosicate come piori e noi ci vediamo prossimo video ciao